Sono Clara Micheli e sono consulente e formatore per il mondo della pizzeria moderna Oggi preparerò la Dante, una pizza con i sapori della tradizione toscana Ho scelto Scrocchiarella perché mi permette di agevolare il processo produttivo E mi consente di ottenere sempre un prodotto eccellente Grazie Ed ecco la Dante, la mia interpretazione della ribollita su una scrocchiarella Grazie 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 Grazie